Dopo critiche rivolte anche dagli schemi di TVL su un mancato ampio dibattito su cosa realizzare in concreto per il progetto di Pistoia Capitale della Cultura, le puntualizzazioni del sindaco Samuele Bertinelli. Il dossier ha già visto una convergenza molto significativa anche con tutte le altre istituzioni della Regione Toscana. In queste settimane a questo stiamo lavorando, cioè un accordo di programma che mette insieme da Regione Toscana approvvitorate alle opere pubbliche, dalle sovrintendenze RFI alla provincia di Pistoia perché se Pistoia è capitale italiana della cultura per un intero anno come sarà nel 2017 è a maggior ragione la capitale toscana della cultura, di questo ha recentemente parlato anche il presidente Rossi. Stiamo con il comitato promotore del quale ricordo fanno parte dalla diocesi vescovile alla fondazione della Cassa di Risparmio dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia alla Camera di Commercio, alla stessa provincia guidata naturalmente dal comune di Pistoia il programma che traduce il dossier che ha visto da un'autorevolissima commissione ministeriale a ridere a Pistoia il successo per il titolo di Capitale Italiana della Cultura è questo un momento unificante della città. È evidente che a questa prima fase di lavoro molto intenso di traduzione del dossier nel programma farà seguito con l'intensificazione di un confronto che è già in atto con in questo momento tutte le istanze rappresentative della società pistoiese, dagli amici della San Giorgio alle organizzazioni, alla rappresentanza economica, all'associazionismo, al volontariato che sto conducendo personalmente e anche a un confronto che si sta sviluppando ci sarà a breve una commissione consigliare con l'intero consiglio comunale da parte dell'amministrazione un coinvolgimento più diretto che è l'obiettivo più importante dell'intera città. Sottolineando che mancano ancora oltre nove mesi all'appuntamento, queste le tappe nel lavoro da fare annunciate dal sindaco. Attivare, cosa che faremo già nelle prossime settimane, concorsi di idee per, da una parte, il marchio della Capitale Italiana della Cultura, dall'altra per mettere a servizio di questo progetto giovani pistoiesi che abbiano competenze, voglia da neolaureati, esperti in marketing culturale, storici dell'arte, comunicatori, artisti, designer, di investire su se stessi e sulla propria città nell'anno della Capitale Italiana della Cultura per aprirci progressivamente con la seconda metà dell'anno quando faremo, da una parte, una manifestazione di interesse per le sponsorizzazioni per l'anno della Capitale Italiana della Cultura e dunque per attrarre ulteriori risorse oltre al milione di euro del Ministero dei Beni Culturali, ma dall'altra parte anche per promuovere fisicamente nella città un confronto ancora più diffuso, presente in presidi fisici in tutto il territorio, con appunto l'obiettivo il più importante di tradurre il moto istintivo di orgoglio che ha percorso la città al momento della storica decisione del Ministero di conferire il titolo di Capitale Italiana della Cultura alla città in una mobilitazione cognitiva civile diffusa perché questo sia un ponte verso i prossimi decenni.